Ligor, Gorgonzola e Novara si conferma bella in Coppa Italia. Batte 3-1 nel derby piemontese la reale mutua Fenera Chieri e accede alla finalissima per la terza volta nelle ultime quattro stagioni. Partita attirata e ricca di patos, soprattutto perché Chieri riapre la sfida del terzo set e sfodera una grobelna cinica e spietata. Novara ha il merito di reagire nel momento migliore delle avversarie e Lavarini attinge dalla panchina con coraggio, lasciando fuori Enco, cautrice di una grande prova al servizio con noveis personali, preferendo le Battistoni. Chierichella sale in cattedra, Herbots e Bosetti sono devastanti. Chieri nel quarto set porta alla sfida i vantaggi, punita dalla parallela di Smarzek su palla staccata e manda in finale Novara contro Conegliano. Lavarini adesso prova a regalare all'Igor Gorgonzola la quarta Coppa Italia della propria storia, ma di fronte si troverà Daniele Santarelli e la sua Conegliano a caccia del successo nella manifestazione e della 55esima vittoria di fila.